Allora, innanzitutto per quanto riguarda la difesa, io penso che la maceratese, il mister, soprattutto, abbia scoperto un vero e proprio talento che è Tartabini. Tu l'hai definito in nuovo? Ah, per me, forse mi sono sbilanciato, ma non troppo, perché un ragazzo che gioca con la personalità di Tartabini penso che non sia il giovine. E la facilità di corso. Esatto, in categoria. A parte questo, per quanto riguarda il centrocampo, io penso che nessuna squadra possa regalare all'avversario, anche se si chiama Fossombrone, giocatori del calibro di Carboni e Gian Domenico. Quindi, se a centrocampo abbiamo sofferto un po', è proprio perché mancava un po' la fonte del gioco, anche se Nicola Cacopardo ha fatto bene, ha dato tutto quello che poteva dare, perché un ragazzo del 94, non dimentichiamolo, ha giocato nella zona nevragica del campo, non è facile. Quando avremo recuperato Carboni e Gian Domenico, Carboni domenica prossima e Gian Domenico, tra due e tre settimane, ma questo dipenderà tutto dal dottor Delgobo, della Cara, ed è, sono convinto che questa squadra troverà i giusti equilibri e si farà valere. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.